Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 11 gennaio 2011. Mi hanno detto che è un giorno particolare, perché c'è 11, 1 e 2011. Io non ci credo a queste cose, però sul piano estetico il numero è carino. Vediamo un po' di che cosa tratta questo video. C'è un amico che mi segue, che mi segue questa piccola tv pubblica, e gli si chiama Stanislao 7, 1 e mi dice caro professore sono uno sposato divorziato. Quindi come nel 70-80% delle vicende coniugali la storia non è finita con la frase ed essi vissero felici e contenti. Ma io ve l'ho detto tante volte, cari amici, ve l'ho detto tante volte e a proposito di questo romanzo storico-mitologico e tante volte la stirpe del serpente, il passaggio dal matriarcato al patriarcato, che le fiabe d'amore non finiscono mai come ha scritto l'affabulatore, il favorista. No, di solito finiscono dall'avvocato o in tribunale, previe litigate con tante pure botte anche all'arrivo dei carabinieri. Se poi non finiscono in tribunale o con una separazione legale, vi di seguito procedono con tanta tristezza e anche con tanto rancore reciproco. Allora, quindi stai tranquillo caro amico, sei in ottima compagnia, sai. Stai tranquillo caro. Stanislao 7.1 Caro professore, sono uno sposato-divorziato. Secondo alcuni, forse poco intelligenti preti, scrive Stanislao, secondo alcuni, forse poco intelligenti preti, io non posso fare la comunione. Leggendo un articolo di un giornale dove un prete ha negato la comunione ad un uomo non perfettamente in regola con la religione, volevo gentilmente sapere la sua. Le auguro gli bene, le alleggo l'articolo e il collegamento web. Sì, mi manda un articolo di giornale, ma ce ne sono tanti di questi articoli, caro amico. Tu me l'hai mandato l'articolo, ma anche se non me lo mandavi, mi bastava quello che hai scritto tu, la dico a te. Allora, tu sei un signore sposato e coniugato e ti dispiace, perché io capisco che ti dispiace e che tu non puoi fare la comunione. Sì, sempre che sia così, i divorziati, solo se una coppia è stata, come dire, sciolta, c'è l'annullamento rotale dalla Sagra Roda e tale scioglimento è irrilevante ai fini della consumazione dei sacramenti, della comunio, la comunio sanctorum. Però se l'annullamento, in questo caso il divorzio, è stato, diciamo, sancito da un tribunale non di Dio, ma di Cesare, allora bisogna fare i conti con la Chiesa e sembra che, mi sembra, mi scuso se mi sbaglio con gli amici, mi scuso se mi sbaglio, sembra anche a me che le persone divorziate non possano fare la comunione. La comunione. E beh, dove è il problema, caro amico? Dove è il problema, caro? Se tu sei un cattolico, cattolico e comportati da cattolico e non fai la comunione, pace. Se tu sei un cattolico e vuoi bene la religione cattolica, e vabbè, e vivi da cattolico senza la comunione cattolica, senza la comunione cattolica. Va bene? E vedrai che Dio ti perdonerà. Vedrai che Dio ti perdonerà. Ma vediamo un po' com'è la faccenda. Ma vediamo un po' da che pulpito viene la predica. Da che pulpito viene la predica. Ah, quanto mi diverto, cari amici qua. Io ho la Bibbia qua, eh. Peccato che non l'ho presa, se no devo interrompere il disco. C'è il video. La Bibbia. Oh, la Bibbia cattolica, bello, un bel libro. Traduzione cattolica, eh. E sapete, di quello che c'è scritto nella Bibbia, all'inizio, in quel libretto che si chiama Genesi, perché all'inizio è Genesi, e qua appena Dio ha creato Adamo e Deva, il primo ordine è siate fecondi e moltiplicatevi. Altri traducono con crescete e moltiplicatevi. Cioè il primo ordine che Dio Yahweh dà ad Adamo e Deva è quello di posatevi e fate tanti bambini. ora questo ordine è stato dato ad Adamo e Deva e a tutti i suoi discendenti. Vale per tutti, vale. Vale per tutti. Per tutti. In quanto noi siamo discendenti da Adamo e Deva, quell'ordine là, crescete e moltiplicatevi, vale per tutta l'umanità. E mica è detto Geova. che poi l'ordine di Geova vale pure per i cristiani, non solo per gli ebrei, vale pure per i cristiani e per gli islamici. Perché il primo libro del Vecchio Testamento, Genesi, Genesi, come i dieci comandamenti, valgono pure per i cristiani e per gli islamici. Quindi pure per i cristiani vale il primo ordine divino, o Yeova, Geova, o Cristo, o Allah, che è. Crescete e moltiplicatevi. L'ordine non è, non è l'ordine, il primo, è il primo ordine divino, non è. Crescete e moltiplicatevi tranne i predi cattolici. Tutti, vale per tutti, tutta l'umanità che si riconosce in Yahweh, in Cristo e in Allah, deve ubbidire quel primo ordine. Crescete e moltiplicatevi. Cioè la gente, uomo e donna, se devono sposare, fa i fichini. Ora guarda caso, guarda caso e tutti i cosiddetti sacerdoti di queste tre grandi religioni nella Bibbia, i ebrei, i cristiani e gli islamici, guarda caso tutti i sacerdoti, sacerdoti, tra virgolette, i preti, di queste tre grandi religioni patriarcali si sposano, tutti si sposano. A Roma dicono si sposano, si sposano tutti, tutti si sposano. Si sposano i sacerdoti rabbini ebrei, si sposano i sacerdoti come si chiamano, islamici. E si sposano pure, all'interno del cristianesimo, si sposano pure i luterani, cioè i protestanti, i calvinisti, di i greco-ortodossi, cioè la chiesa cristiana orientale, si sposano tutti, si sposano, meno i cattolici. Allora, in tanti video, io ho detto che i preti cattolici, non sposandosi, disubbidiscono al primo, al primo, e più grande ordine divino, essi sono dei disubbidienti, direi quasi quasi che sono degli eretici, perché non contribuiscono alla perpetuazione della specie, perché a quell'ordine, Yahweh, e poi l'eredità di Yahweh, si è ripresa il Dio Cristo, e poi il suo fratello, il Dio Allah, e Yahweh vuole che l'umanità non si estingua. E questo ha detto crescete e moltiplicatevi, tutti, 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 tutti i sacerdoti di queste tre grandi religioni, ebraica, Yahweh, cristiana, Cristo, islamica, Allah, tutti, 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 si sposano, soltanto un settore interno al cristianesimo che è il cattolicesimo, vede che i sacerdoti di questo settore interno al cristianesimo che è il cattolicesimo, non obbediscono all'ordine divino, pensate, sono gli unici in tutto il mondo, ad essere dei disobbedienti, vanno a dire agli altri sposatevi che la famiglia è bella, ma loro non si sposano, sono dei disobbedienti, quasi quasi io uso dire che sono degli eretici, ma perché non vi sposate? E poi andate a dire voi non vi sposate, siete già al di fuori della communio sanctorum, perché è inutile che mi tirate in ballo i primi secoli del cristianesimo, e no, non bastano i primi secoli del cristianesimo, voi mi dovete tirare in ballo il primo ordine divino di Yahweh, e nella vostra Bibbia, cari preti cattolici, nella vostra Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, c'è anche il Libro Genesi, dove Yahweh ordina, è strano la vostra Bibbia, Vecchio Testamento, il Libro Genesi, se no che ce l'avete messo a fare quel libro lì, il Libro Genesi, dove c'è scritto che Dio dall'ordine crescete e moltiplicatevi, eh? E allora voi non obbedite a Dio, siete dai disobbedienti, e che razza di disobbedienti poi, perché non perpetuate la specie umana? Se facessero tutti come voi la specie umana sarebbe già finita, e allora è Dio che l'avrebbe creato a fare il mondo e poi l'umanità? Dovete contribuire anche voi alla perpetuazione di una specie, sì o no? O no? Questo lavoro lo lasciate agli altri, eh? Siete dei disobbedienti, ergo siete degli eretici, eretici, non volete perpetuare la specie umana, capito? Questa si caneresia, il primo ordine divino non lo eseguite, dentro il cristianesimo tutti gli altri preti cristiani si sposano e voi i preti cattolici non vi sposate e poi vi permettete di dire a qualche provvedetto che si è sposato e magari si è sposato pure in chiesa, va fatto pure l'onore di sposarsi in chiesa, poi per vicende della vita si è separato e si è anche divorziato e voi che siete dei disobbedienti dite a questo poveretto che vi onora chiedendovi di comunicarlo gli dite che no, non si può comunicare perché è fuori dalla chiesa, e voi non siete fuori dalla chiesa? Voi continuate a disubbedire al primo ordine di Dio, quel Dio che sta nella vostra Bibbia, ce l'ho a casa la Bibbia, ce l'ho a casa la Bibbia, primo libro della Genesi, Yahweh che ordina, crescete e moltiplicatevi, sta lì, voi non parlate solo del Nuovo Testamento, voi parlate pure del Vecchio, vero? Mica l'avete rinnegato voi cattolici il primo libro del Vecchio Testamento, perché sta lì e vuol dire che serve a qualcosa, sa, no? E come vi permettete voi che vivete per conto mio in un gravissimo peccato mortale perché non contribuiti alla perpetuazione della specie umana, è questo che vuole Dio? Ma se no non la creava la specie umana Dio se c'erano delle persone come voi che non contribuivano a perpetuarla, non ci perdeva tempo a creare Adamo e Deva, e allora lasciate perdere cari preti cattolici, ma se uno vi onora che è tutto grasso che cola, vi onora prima sposandosi in chiesa, sposandosi in chiesa, poi vi onora pure chiedendovi comuni per piacere, anche se sono divorziato, e voi come fate a dirgliere no? Voi prima di dirgliere no dovreste spiegare a questo poveretto il motivo per il quale voi non vi sposate a vostra volta è c'è timordine divino che sta nella Bibbia si chiama Bibbia che comprende il vecchio nuovo testamento crescete e moltiplicate crescete e moltiplicatevi e siete gli unici dentro il cristianesimo che non vi sposate perché tutti gli altri preti i preti protestanti o luterani evangelici i preti calvinisti i preti ortodossi si sposano tutti chissà perché voi no ma che per caso siete voi i migliori? Chi è che stabilisce chi è il giudice che stabilisce che siete voi i migliori? Voi i preti cattolici e che magari invece i migliori non sono per caso i preti calvinisti i preti protestanti i preti cortodossi che si sposano e che cosa state mi dicendo voi dov'è il giudice che stabilisce chi ha ragione? Per me il giudice è la Bibbia dove c'è scritto crescete e moltiplicatevi però non è che Yahweh ci ha scritto crescete e moltiplicatevi tranne i preti cattolici vabbè caro amico cosa vuoi che ti dica? Io se fossi te non mi metterei l'animo in pace mi metterei l'animo in pace e che tu sei deluco posso anche sbagliarmi scusami sai deduco che tu sei un cattolico e se non ti comunicano scusami scusami chi se ne frega tu resta cattolico e chiedi a Dio di essere perdonato e Dio ti perdona poi poi dopo se ti mettono paura dicendo che c'è l'inferno e se la fine massoni informa e che ci sono delle divinità a questo mondo che non ce l'hanno l'inferno se tu puoi sfuggire dall'inferno esci dalla religione cattolica e entri nella religione dei testimoni dicevo loro non ce l'hanno l'inferno oppure entri nella religione ebraica anche nella religione ebraica non c'è l'inferno lo vedi puoi fare quello che ti pare caro amico io non ne farei un problema poi però se proprio ti vuoi divertire vai a dire a qualche prete cattolico le stesse cose che io ho detto qua e gli dici ma perché scusami tu prete cattolico non ti sei sposato che nella Bibbia all'inizio della Bibbia quando Dio crea Adamo ed Eva gli ordina crescete e moltiplicatevi per cui tutti a questo mondo si sposano e fanno tanti bambini e tu perché non ti sei sposato Serafino Massoni dice che voi i prete cattolici siete dei greissimi disobbedienti perché tutti gli altri prete cristiani non cattolici si sposano chi ha ragione che c'è ragione tu per caso va bene caro amico va bene caro amico puoi consolarti caro amico leggiti questo meraviglioso romanzo storico mitologio caro amico così capirai come vanno le cose a questo mondo grazie a te che ti sei fidato di me grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti